Ben trovati alla quarta puntata di Voglia di vincere. Voglia di vincere è uno spazio, una finestra su tutti gli sport con protagonisti di primo piano, campioni, olimpionici, tecnici, preparatori, federazioni e società sportive. www.vogliadivincere.cloud per chi vuole sapere qualcosa di più e per i nostri contatti. In questa quarta puntata parleremo di psicologia dello sport e i nostri ospiti in studio sono Andrea Galesso, a tetra del circolo Le Tre Piume di Agna, nella disciplina di tiro a volo, specialità double trap e recordman del mondo nella categoria junior da popo. Complimenti. Insieme anche con noi il dottor Alberto Fistarollo, psicologo sportivo, segue per la sua attività squadre di rugby, tiro a volo naturalmente e calcio. Tu mi hai raccontato che oltre a essere uno sportivo sei anche uno studente e contemporaneamente anche lavoratore. Ci racconti un pochino il tuo impegno, diciamo, fino a dove arriva? Sì, è più che altro che la fatica di riuscire a organizzarsi con i tempi, sia nel lavoro che nello studio che appunto negli allenamenti, non è facile. Quindi per riuscire ad arrivare ad alti livelli bisogna porsi dei sacrifici. Certo, sacrifici naturalmente dal punto di vista, diciamo, delle uscite con gli amici o cose di questo genere qui, vero? Sì, non c'hai tempo libero, però la soddisfazione poi... Certo, quando si va a fare una gara in Polonia oppure da qualche altra parte, poi ti rende quello che tu hai speso, giusto? Esatto. E invece con il nostro psicologo, diciamo così, la gente un pochino ha paura di parlare... Un pochino sì, c'è ancora un po' questo rettaggio, diciamo, medico, un po' culturale del fatto che si va dallo psicologo solo quando c'è una patologia, una problematica. In realtà, ad esempio, la psicologia dello sport è nata in Italia circa alla metà degli anni Sessanta, per cui già da diversi decenni si parla di psicologia non solo come cura, ma anche come qualcosa che può aiutare a incrementare la performance e aumentare il benessere della persona. C'è un po' questo problema del ma io non sono mica matto, per cui non devo andare dallo psicologo. Invece lo psicologo, diciamo, che cosa può fare intanto con gli atleti direttamente, con le società, come opera? Allora, le cose da poter fare sono davvero moltissime, nel senso che lo psicologo innanzitutto è l'unico professionista che ha alle spalle cinque anni di università, più un esame di Stato, più diversi corsi e per tutta questa carriera studia il comportamento, la mente, i processi cognitivi, per cui è effettivamente il professionista più idoneo per occuparsi di allenamento mentale. Può fare moltissime cose, perché lo psicologo si cala nel contesto della richiesta che gli viene fatta, che può essere quella di aiutare a gestire un gruppo, come invece anche aiutare, come abbiamo fatto a Circolo Tre Piume, gli atleti con un allenamento mentale, quindi lavorare sulla concentrazione, sulla gestione delle emozioni, sulla visualizzazione, tutta una serie di tecniche che possono aumentare la prestazione. Quindi non è una cosa, una tantum come faceva il vecchio Woody Allen, che era un po' ossessionato dallo psicologo, ma è qualcosa che invece si costruisce insieme con gli atleti, insieme con la società e quindi ha un suo percorso che è anche tangibile veramente dal punto di vista pratico. La psicologia dello sport poi non è così diversa dall'allenamento fisico, ci vuole tempo, ci vuole progressione, ci vuole impegno, quindi non è poi così diverso, le ricette magiche non le ha nessuno. Com'è andato quest'anno in vista di queste Olimpiadi? Questa è stata una stagione molto intensa, abbiamo cominciato l'anno scorso a marzo la qualificazione olimpica, per me in particolare è stata una stagione importante in cui ho dovuto conquistare l'ingresso in squadra, l'ingresso da protagonista, infatti tirerò anche nella gara individuale, il percorso devo dire è stato molto lungo e faticoso e per questo molto bello. Adesso mi sto godendo questa preparazione e spero di godermi anche l'Olimpiadi appieno. Il percorso di un'Olimpiadi appieno, il percorso di un'Olimpiadi appieno. che immagino ogni sportivo, quella di vincere una medaglia. Le aspettative sono alte ma naturalmente cercheremo di non farci schiacciare da questa cosa, non sono la numero uno del ranking ma questo non significa niente. Sono molto convinta alle mie potenzialità e poi giocheremo tutti per vincere e quello è il bello. Questi giorni di preparazione come stanno andando? Stanno andando molto bene, devo dire che il CT ha fatto un bel lavoro e ci sta mettendo nella migliore posizione per allenarsi al meglio. Devo dire che c'è grande serenità, si lavora molto bene e con molta attenzione. Un ringraziamento speciale alle PM Gialle che ci accompagnano sempre. Grazie a loro siamo qui. L'appuntamento si avvicina, l'ansia comincia a farci sentire però andiamo, andiamo a vedere come sarà questa seconda per me Olimpiadi. Comunque è già un sogno arrivare lì e speriamo ci sia un bel finale. Certo e naturalmente se lo augura qualsiasi italiano che fa il tipo per voi. Sembra solo in questi momenti ma in realtà vi conosce tutti nome per nome e cognome, tutti gli appassionati della scherma vi seguono, sanno esattamente chi siete, cosa fate. A livello internazionale sia giovanile avete vinto tanto, avete fatto tante bellissime prove. Adesso che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che comunque vengano fuori tutte le qualità, tutto il lavoro che abbiamo accumulato fino adesso, arrivare lì e esprimere quello per il quale abbiamo lavorato, credo che sia anche il coronare un sogno di quattro anni. Che cosa potresti dire a un ragazzo o una ragazzina che inizia proprio la sua attività agonistica? La scherma è uno sport per tutti, fa divertire, crea disciplina e comunque è divertente. Comunque divertitevi perché lo sport fa bene, la scherma ancora di più sono di parte quindi perché no andare lì con la spensieratezza di dire giorno dopo giorno divertiamoci poi se diventa un sogno raggiungibile perché no anche, sogniamo tutti. Bene, abbiamo visto questo impegno delle due ragazze che sono andate alle Olimpiadi di Rio, hanno avuto diciamo un buon risultato perché comunque hanno sfiorato quasi la medaglia, però alla fine è mancato quel qualcosina. Quel qualcosina tante volte può essere qualcosa che sta all'interno del nostro cervello, del loro cervello? Beh assolutamente sì, diciamo che a livello di prestazione quando si arriva a livelli così alti i dettagli fanno la differenza per cui un'adeguata preparazione mentale è sicuramente importante e poi c'è anche da dire che ci sono dei fattori che non sono sotto il controllo dell'atleta e quindi è sempre un terno all'otto, cioè la fortuna conta assolutamente sì, però abbiamo visto quanta preparazione ci sia dietro un evento del genere, quanta anche tensione e quanto anche si parli di atteggiamento mentale, divertimento, ansia, tutti gli aspetti che riguardano la mente, però poi i dettagli fanno la differenza. Allora invece parliamo con il nostro ragazzo, il nostro atleta e sei appena riuscito ad avere un risultato incredibile diciamo per la tua età che è quello del record Juniores e il record mondiale e quando è che te lo sei sentito questo record? Perché ci si sente anche mentre lo stai facendo? Sì, beh, più che altro non ne sono reso conto subito mentre lo facevo, mentre ero lì che sparavo c'era soltanto tranquillità e serenità, ti rendi conto dell'impresa che hai fatto dopo quando sei a casa e magari sei seduto sul tivano e dici, oh, ma che non lo hai fatto? Certo. Mentre il tuo allenamento, diciamo, perché qualcuno magari non conosce, come non conosce la scherma, non conosce neanche il tiro, è un impegno diciamo così al fine settimana o è un impegno importante? È un impegno a tutta settimana, sì, sì, sì. Ovviamente il tiravolo ti impegna molti, molti pomeriggi e soprattutto i fini settimana ci sono le gare, poi se devi andare in posti lontani, devi star via tutto quanto il weekend. Tu quando è che hai cominciato questa tua attività? Io ho cominciato all'età di 14 anni, io ho mio papà che è cacciatore, mio fratello anche, però io ero al calcio e non andiamo molto d'accordo. E tu che cosa ci puoi raccontare dell'esperienza di un ragazzo di questo tipo, impegnato, molto impegnato? Nel suo caso l'impegno c'era, diciamo, parlando proprio del caso di Andrea. Probabilmente non c'era una piena consapevolezza dei propri mezzi, per cui si è lavorato su quello, si è lavorato su una formulazione degli obiettivi che fosse funzionale alla sua attività e dopodiché abbiamo lavorato sulla concentrazione, sulla gestione delle emozioni e anche sulle sue routine di gara, perché il tiro a volo è uno sport particolarmente, diciamo, ha delle sfumature che a livello mentale possono veramente far la differenza, la gestione delle pause, la gestione dell'approccio alla gara. Certo, lo abbiamo visto in queste ultime Olimpi, tutte le medaglie che hanno preso i nostri ragazzi. Assolutamente. Presidente, l'impegno quotidiano per la normalità praticamente? Sì, direi proprio di sì e mi pare che abbiamo anche raggiunto questo obiettivo negli ultimi anni. Si parla più di normalità. Fino a qualche anno fa purtroppo non era così ed è stato grazie anche ai media, alla televisione che finalmente si è accorta che lo sport paralimpico piace e da Londra 2012 ha continuato per Rio 2016. La televisione ha dato molto spazio, ma anche le tv private come questa per esempio, che ringrazio per l'invito. Grazie appunto a questa immagine siamo entrati nelle case e le famiglie, la cittadinanza si è appassionata. Si è appassionata allo sport paralimpico, prova ne sia che oggi possiamo proprio parlare di normalità. Abbiamo constatato che le ultime Paralimpiadi sono state più viste da appunto alle Paralimpiadi che non alle Olimpiadi e quindi questo vuol dire il cambio di cultura e di attaccamento anche alla nostra attività da parte della cittadinanza. Certo, una mano importante l'hanno data personaggi che poi sono diventati personaggi negli ultimi tempi come Alex Zanardi piuttosto che la Bebevio, ma il movimento è un movimento importante che ha veramente tanti atleti che anche qui in Veneto è molto forte, ne parlavamo con il presidente del CONI Veneto, proprio che ci sono state il 20% di medaglie è stato portato dal Veneto, poi dal movimento paralimpico Veneto alle Olimpiadi di Rio. Cosa possono fare il CONI, le federazioni e le società in più per aiutare questi ragazzi, questi atleti? Ecco, diciamo subito che il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, è l'equivalente del CONI. Certo. Cioè il CONI si occupa delle Olimpiadi, il CIP si occupa delle Paralimpiadi. E davvero abbiamo avuto grandi risultati, ma non solo 11 atleti veneti che hanno fatto parte della Nazionale Azzurra, dei 106 atleti appunto, e i nostri atleti hanno portato a casa ben 11 medaglie e quindi un risultato davvero importante, incredibile. Ma poi abbiamo anche gli atleti più conosciuti, più appunto da Bebevio, da Zanardi a Bettella al Vise di Vidi. Per rispondere alla sua domanda, cosa si può fare per aiutare gli atleti? Beh, le federazioni sono impegnate appunto a seguire con più attenzione di quanto non si pacesse qualche anno fa, appunto con la preparazione atletica. Il CIP, il Comitato Paralimpico, è molto impegnato a dare un contributo alle società, perché ahimè lo sport vuol dire anche costi. Il CIP è riuscito attraverso l'aiuto della Regione Veneto quest'anno, che ha messo a disposizione 200 mila euro e che sarà un contributo che in parte va, come contributo in parte va per l'acquisto di attrezzatura, proprio per aiutare le società sportive, perché appunto l'aiuto che si può dare a questi atleti attraverso le società è proprio l'aiuto economico ma anche tecnico. Abbiamo bisogno di persone preparate per avere sempre migliori risultati, anche se fino adesso, negli ultimi dieci anni, abbiamo dimostrato di avere raggiunto un buon livello. L'importanza della Paralimpica sia proprio anche nel fatto di entrare proprio nel sociale, nelle famiglie. Importante non è solo per gli atleti ma anche per i loro genitori e per le loro famiglie. Che cosa ci può dire? Certo, infatti lo sport paralimpico ha dei valori in più dello sport olimpico, perché ovvio lo sport olimpico lo conosciamo tutti eccetera, però vorrei dire che lo sport paralimpico è una marcia in più perché ha l'aspetto anche sociale. Diamo delle opportunità ai disabili, alle famiglie attraverso lo sport che altri meccanismi, altre attività non ha. Quindi è davvero, questa attività è importantissima per dare soddisfazione, per poi rendere alla pari, pari diritti di sport. Io basta dire che quando ho avuto l'incidente io 50 anni fa di sport paralimpico non se ne parlava proprio. Oggi invece negli ultimi anni davvero le cose sono cambiate. Però dobbiamo ancora insistere perché sono ancora pochi gli atleti disabili, cioè le persone disabili che fanno sport. Nel Veneto abbiamo 120-130 società che si occupano di sport paralimpico, oltre 1100 atleti agonisti, ma ritengo che siano pochi questi numeri, anche se potrebbero sembrare importanti, ma ahimè i disabili sono molto di più. E chi si avvicina allo sport paralimpico ha delle grandi soddisfazioni, i grandi risultati, sia da un punto di vista sociale che psicologico e di integrazione nella società, ma anche fisico. Lo sport sappiamo che lo sport fa bene a tutti, ma ancora di più fa bene a chi ha una disabilità. Una piccola pillola nella nostra trasmissione Voglia di vincere è dedicata anche alla medicina. Siamo qui con la dottoressa Livia Montagna, che ringraziamo. Buongiorno a tutti. Con lei chiediamo qualcosa di particolare. Diciamo che la masticazione è la prima fase della digestione. Come mangiare e quali sono i comportamenti virtuosi da tenere, diciamo, in generale? Allora, come ha detto, effettivamente la masticazione è la prima fase della digestione, quindi è di fondamentale importanza masticare con calma, masticare bene a lungo i cibi, proprio per cominciare a digerirli all'inizio della nostra assunzione del cibo e ovviamente limitare la quantità di cibi ricchi di carboidrati e di glucidi, quindi ovviamente tutto quello che riguarda i dolci, a possibilmente in quantità ridotte e ovviamente cercare di mantenere una corretta igiene orale dopo i pasti. E per quanto riguarda gli sportivi? Sicuramente già lo sportivo di per sé, nel momento in cui si approccia a uno sforzo fisico intenso, ha una produzione di saliva con una componente maggiormente alcalina che va ad aumentare proprio la produzione di placca e tartaro, quindi di batteri all'interno del nostro cavo orale. Pertanto sarebbe opportuno che tutti gli sportivi avessero una maggior cura dell'igiene orale rispetto alle persone che non fanno sport a livello agonistico, professionistico o comunque di grande intensità. Sicuramente il fatto di assumere più glucidi proprio per il fatto di dover integrare nella dieta dello sportivo un maggior apporto di energie è una componente che porta a un maggior rischio di carie e a un maggior rischio di andare a rovinare tutta la dentatura. Poi associato a questo ci sono tutta una serie di altre problematiche come ad esempio le problematiche gengivali che stanno sempre a riferirsi alla quantità di placca batterica presente nel cavo orale. La prima manovra è l'utilizzo dello spazzolino, lavare i denti almeno le classiche tre volte al giorno dedicando il tempo necessario all'igiene orale quindi si consiglia due minuti con lo spazzolino elettrico e tre con lo spazzolino manuale e poi importantissimo il filo interdentale e sicuramente di importanza ancora più rilevante è fare dei controlli periodici dal dentista di fiducia che vuol dire fare almeno l'igiene orale due volte all'anno ogni sei mesi e un controllo con il dentista almeno una volta all'anno. Qual è la cosa che ti piace di più insomma se dovessi raccontare a un ragazzo dai vieni a sparare che cosa che quali sono le sensazioni le belle le belle cose che ti provoca insomma la competizione ma anche la compagnia l'asse di tutti quanti ragazzi che c'è nessuno non è un cattivo ragazzo certo tutti quanti si vogliono bene o comunque sia cioè non va in cattive strade ci vuole molta responsabilità per tenere in mano un'arma quindi certo benissimo con il psicologo possiamo fare un altro ragionamento diciamo che i ragazzi invece se fanno uno sport sono tolti dalla strada e contemporaneamente diciamo che il valore di fare uno sport anche se non a un livello eccesso è qualcosa che poi è utile nella società di tutti i giorni assolutamente dal punto di vista diciamo del medico che cosa lo sport sicuramente innanzitutto insegna delle regole insegna a stare con gli altri insegna ad avere una disciplina lo sport fa bene perché comunque riguarda movimento anche se ci sono sport dove il gesto il gesto tecnico è meno impegnativo però comunque diciamo che ormai le relazioni tra mente e corpo sono chiare si sa che allenare il corpo fa bene alla mente e viceversa per cui lo sport fa bene e fa così bene che addirittura ci sono studi che dimostrano che chi fa uno sport con continuità potenzialmente va anche meglio a scuola per cui ci sono tantissime evidenze scientifiche che dimostrano quanto lo sport sia utile e come diceva lei è utile per tenere i ragazzi lontani dalle strade anche se i ragazzi di oggi forse stanno più davanti ai videogiochi che in strada indubbiamente allora diciamo che è un buon modo per tenerli lontani dai cellulari e dai videogiochi ecco assolutamente io ho 28 anni vengo da firenze ho cominciato il canottaggio alla canottieri firenze quando avevo quando ne avevo 12 quindi è molto tempo che remo e sono entrato ho fatto il mio primo mondiale nel 2004 junior di categoria e sono entrato in guardia di finanza nelle fiamme gialle nel 2008 e da lì ho fatto campionati mondiali europei e siamo arrivati secondi per due volte ai mondiali abbiamo vinto sempre in doppio l'europeo nel 2014 e ho partecipato alle olimpiadi di londra in quattro di coppia e ora parteciperò alla mia seconda olimpiade a rio in doppio canottaggio tante speranze per rio molte speranze la squadra è molto agguerrita e siamo il livello penso sia alto quindi arriviamo pronti per l'occasione e per dare magari ma 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 Grazie. Grazie. Siamo una squadra molto forte, l'abbiamo dimostrato durante queste gare di Coppa del Mondo è tutto, anche negli allenamenti di finalizzazione per la preparazione per Rio sta emergendo che la squadra è molto competitiva e quindi siamo molto speranzosi per le gare. E in particolare per me per il doppio che è quattro anni che stiamo facendo questa barca assieme con Romano Battisti, lui ha già preso una medaglia a Londra, è arrivato secondo con Alessio Sartori e quindi le sensazioni sono buone e speriamo di fare il migliore risultato possibile e di riuscire a esaudire quello che è il nostro sogno, di prendere una medaglia. Grazie. Benissimo, abbiamo visto Francesco Fossi a piedi luco prima delle Olimpiadi, poi ha preso la medaglia che aveva sognato, è un sogno che non tutti riescono a raggiungere, però quando si raggiunge è un obiettivo, diciamo il top dell'obiettivo. Mentre che obiettivi si devono porre i ragazzini quando iniziano lo sport, quando cominciano le prime gare, le prime competizioni? Questa è una domanda che richiederebbe moltissimo tempo, però diciamo che fondamentalmente noi dovremmo trasmettere sempre l'idea del divertimento, cioè fare ciò che piace, ciò che appassiona, ciò che ci fa sentire anche competenti, ci fa stare bene con gli altri. Poi chiaramente se c'è già un'idea di competizione anche nel ragazzino, nel bambino, perché no? Però di base ci deve essere sempre un'idea di sviluppo, di crescita sano e di divertimento. E a proposito dei genitori, i tuoi genitori vanno a caccia loro, ma poi alla fine vengono anche al poligono oppure… No, beh ormai no, però all'inizio mi accompagnavano, mi sostenevano, però non sono mai stati, cioè, non sono mai stati in mezzo al discorso allenatore e atleta, quindi, cioè, sono stati bravi genitori. Benissimo. E con queste ultime riflessioni vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie a tutti.